Non sapevo che le domande fossero così popolari. Vedi, con tutto il dovuto rispetto per tutte le persone religiose, vedi, religione essenzialmente significa credere in qualcosa. Ogni volta che qualcuno dice sono una persona religiosa, definiscono se stessi credenti. Sì, credenti. Credere significa cosa? Significa che non sai qualcosa, ma non sei disposto ad ammettere non so, quindi ci credi. Io dico, se non sai qualcosa, perché non dici semplicemente non so? Ci siete? Va bene? Non so qualcosa, dico non so, perché non so è una possibilità notevole. Solo quando dici non so, il desiderio di sapere, il cercare di sapere e la possibilità di sapere diventano una realtà viva nella tua vita. Per ogni cosa che non so, credo. Questo ha portato a tutta una serie di cose. Una cosa che fa è che ti dà sicurezza. Io credo significa che ti dà sicurezza, ma sicurezza senza chiarezza è un disastro. Questo è un disastro che si manifesta nel mondo a tanti livelli diversi. Persone che non sanno un bel niente, che non riescono a vedere cosa hanno di fronte, sono super sicure di sé. È pericoloso. Se non puoi vedere, almeno devi essere esitante. Non è così? Ci siete? Se non puoi vedere, devi almeno essere esitante. Non riesci a vedere, ma sei sicuro di te. Questo è ciò che credere ti dà. Sicurezza senza chiarezza. Come arrivi al tuo credere? Ci sono molti modi. Posso raccontarvi una barzelletta, va bene? È una domanda seria. Vi va bene? Avete un'area così seria? Ho paura di voi. Questo è accaduto a New York. Un bambino di otto anni tornò a casa da scuola nel pomeriggio. A casa aveva una madre molto progressista. Ovviamente era single. Arrivò a casa e chiese, mamma, Dio è uomo o donna? Vedi, questo è un grande dibattito in America, se Dio è uomo o donna. È un dibattito molto grande in America. Sai, alle ultime elezioni hanno cercato di risolverlo e sai cos'è successo? La madre pensò, essendo una donna progressista, ci pensò su a tutte queste politiche di genere che sono in corso nel paese. E dopo averci pensato a lungo, disse entrambi. Poi il ragazzo si mise a pensare profondamente. Dopo un po' tornò e chiese, mamma, Dio è nero o bianco? Sai, alle elezioni precedenti hanno cercato di risolvere questa questione. perché la politica razziale è una cosa molto importante. Lei pensò a tutte le politiche razziali che sono in corso nel paese e dopo averci pensato molto, molto a lungo, disse entrambi. Poi il ragazzo si mise a pensare profondamente. Dopo averci pensato a lungo, tornò e chiese, mamma, Dio è etero o gay? Lei pensò a tutte le politiche legate a quell'aspetto della vita e disse, entrambi. Allora il ragazzo saltò di gioia. Ho capito, ho capito, è Michael Jackson. Non so come tu sia arrivato al tuo. Devi capire. questa è una cultura senza Dio. In questa cultura ti abbiamo sempre detto la tua vita è il tuo karma. ciò significa la tua vita è il tuo karma. Ciò significa la tua vita è opera tua. Non c'è nessuno che ti gestisce da lassù. la tua vita è interamente il tuo karma. La tua vita è interamente il tuo karma. Sei alto, sei basso, sei capace, sei incapace, puoi fare qualcosa, non puoi fare qualcosa, diciamo, hai io karma. te lo diciamo da sempre la tua vita è interamente opera tua. ma lo abbiamo trasformato in qualcosa altro e ora anche noi iniziamo a guardare in su. Uparvala, siete tutti studenti di ingegneria. Ditemi, questo pianeta è rotondo o piatto? Davvero? È rotondo? Alcuni di voi dicono di no. Questa ragazza è un pianeta rotondo, vi chiedo? Sì, sta ruotando? Quindi non sei nemmeno sul polo nord. Sei qui, in questo cennai. Qui, se guardi in su, è il pianeta ruota. Inevitabilmente guardi in su, nella direzione sbagliata. Ci siete? Non sai nemmeno dove è su. In questo cosmo, sai dove è su e dove è giù? Ci siete? È scritto da qualche parte, questo lato è su? Puoi mai capire quale lato è su, in questo cosmo? No. Quindi stai guardando in su a cosa. Quando non sai nemmeno cos'è su, come sai chi è la su? Vuole dire, ho creato io l'universo? No. Ovviamente, prima che tu e io arrivassimo, ogni cosa era qui. Non è così? Quindi ora, almeno devi dire, davvero non so. Il problema è, qualcuno è teista, qualcuno è ateo. Non sono persone diverse, semplicemente abiti diversi. Stessa assurdità. una persona crede a ciò che non sa in un modo positivo, un'altra crede a ciò che non sa in un modo negativo. Entrambi sono credenti di qualcosa che non sanno. Non è così? Qual è il problema dell'essere umano che non puoi ammettere, non so, è così meraviglioso, così umano che tu dica non lo so. Non è così? Se non sai, se ti rendi conto che davvero non sai, la tua intelligenza sarà sempre vigile, non dorme mai. sempre, in ogni momento della tua vita, anche nel sonno starà sveglia, se ti rendi conto, davvero non so. Questo credere ti ha fatto solo mangiare pongal e sai, semplicemente diventare letargico, il mondo è diventato letargico. Quando dico letargico, non fisicamente, l'intelligenza è diventata letargica perché credono in qualcosa. Tutti credono qualche assurdità. Possiamo essere abbastanza onesti, giovani di questa nazione, vi chiedo? Giovani di questa nazione, siamo abbastanza onesti da dire ciò che so, so, ciò che non so, non so. Va bene per voi? Giovani dell'India, lo chiedo a voi. Sì.